Potente appara ragazzi, qua Wax, l'ho giomigato, oggi sono da solo e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo squad builder, perchè era da un masiello di tempo che non ne facevo uno Costituito da due giocatori top, anzi da due giocatori man of the match Infatti questo qua sarà uno squad builder, o meglio sarà, in questo video vi presenterò una squadra Costituita dagli unici due man of the match che vi fatti metti ma fatti uscire Quali saranno? Ovviamente il primo è Nasri e il secondo ragazzi è Robin Van Persie Che dopo aver fatto una tripletta contro l'Olympiakos intorno degli ottavi di Champions League E' stato appunto messo, gli è stata creata la carta arancio poiché ha fatto una magica tripletta E quindi ho detto, eh no, eh no, eh no, io ho detto, ma c'è il tempo che non faccio uno squad builder E' uscita questa nuova carta e ho detto, ma facciamo sto squad builder E poi ragazzi vi volevo chiedere una piccola cosa, qual è questa piccola cosa? Praticamente io appunto per comprarlo ho dovuto vendermi Figo E quindi vi volevo chiedere, preferite che io vi faccia un pink pale di Figo Oppure un pink pale di Robin Van Persie man of the match? Fatelo sapere scrivendo un bel commento E se volete il pink pale comunque lasciate un bel mi piace Cioè è un po' un messaggio subliminale Quindi in poche parole dovete lasciare un mi piace e commentare scrivendo di quale giocatore vorreste vedere il pink pale Comunque io partirei alla stragrande No, prima di iniziare vi volevo ricordare di passare la prima con i test Il link lo troverete in descrizione E poi volevo dire che un massimo di miei iscritti sono strafortunati Tipo in 5 o 6 Ne stiamo parlando 5 o 6 su 11.000 Che sono appunto i fan con sulla pagina Facebook Hanno trovato Lionel Messi in forma Nei pacchetti gratis Quindi madonna che magici Poi cosa avete trovato? Scrivetelo nei commenti E se avete trovato qualcosa di buono Avete fatto il video registrandovi appunto Mentre riparate il pacchetto in cui avete trovato questo giocatore Mandatemelo perché rinizieranno le top 5 pack opening reactions Quindi se avete una vostra reazione Una vostra bella reazione mentre aprite un pacchetto e trovate un buon giocatore Caricatela su YouTube come video non è limitato e mandatemi il link Comunque possiamo partire adesso Allora in porta utilizzo check Che ragazzi Check vabbè è stato già presente in qualche mio squad build A me devo dire piace veramente tanto Però prima mi ha fatto una paverata assurda Ma poi si è subito ripreso eh Però vi dico solo che è una bestia Ma anche lui delle sue paperate qualche volta le fa Passiamo invece alla difesa Allora i difensori sono il magicone David Lewis E poi Ake O Ake No credo sia Ake Senza O perché c'è l'accento sulla E Comunque David Lewis ragazzi Sempre più forte Cioè più partite si faccia con lui Più diventa forte Sta diventando ai livelli O meglio sta eguagliando i livelli di Dante E ciò molti di voi sanno cosa significa 189 cm Work it salto normale 3 stelle di vostra abilità 3 stelle di più debole Ma comunque 79 difesa 80 colpi di testa 77 di velocità Se poi gli aggiungete la carta La chemistry ancora diventa magicissimo Poi invece come altro DC Utilizzo Ake Perché ragazzi Utilizzo Ake? Innanzitutto Perché ha un taglio di capelli strabello Ma secondariamente Perché mi avevano detto Mi avevano consigliato di provarlo E ragazzi devo dire che mi è piaciuto assai Non me lo sarei mai aspettato così forte Perché statisticamente parlando Non sembra O meglio Delle statistiche su carta Non sembra un giocatore molto buono Ma ragazzi vi posso assicurare Che è veramente forte Se avete i crediti per comprarlo Provatelo Perché questo è solo 2400 E poi vi aiuterà a dare doppia intesa A questo CDC Che se devo essere sincero E secondo me è il miglior CDC Allora è di sicuro uno dei Mi sa che è il miglior CDC Più bagato di tutto il gioco Oltre a Casemiro Quindi è il secondo Infatti sto parlando di Fer Che ragazzi Questo ragazzo è fortissimo 188 cm Work rate alto alto Che per un CDC sono i top 13 partite 2 gol Poi è un giocatore completissimo Guardate le statistiche Ma anche i piedi deboli E le mosse abilità Infatti presenta 4 stelle di piedi deboli Quindi non è affatto male 3 stelle di mosse abilità Inoltre 85 di colpo di testa Che è veramente un sacco Soprattutto per un centrocampista difensivo Poi guardate le statistiche Cioè vi sembra proprio Un giocatore completo E in più è bagato Quindi immaginatevi Un giocatore completo bagato Passiamo invece Alla parte sinistra Della squadra Allora come parte sinistra Beh non posso dire Vabbè è anche unibri Da questa squadra Tra Barclays Premier League E Liga BBVA Infatti Ho deciso di utilizzare Cristiano Ronaldo Team of the Air In questa squadra Infatti come DC Utilizzo Il magico Pepe Come esterno sinistro Sale E come CDC L'acqua millerale No allora Come CDC Poi vabbè Utilizzo sempre lui Il magico Casemiro Quindi I due Quelli che secondo me Sono i due centrocampisti Difensivi Centrali Più forti O meglio Più bagati in questo gioco Sono presenti Entrami in questa squadra E poi vabbè Come ES Utilizzo un ala sinistra Perché se no Perché siamo paxi Infatti sto parlando di Cristiano Ronaldo Team of the Air E ragazzi Se non avete i crediti per comprarlo Prendete Danny Che non so se avete visto il mio wager match di figo Danny mi ha stragiato Ha proprio spaccato i deretani Poi vabbè Cristiano Ronaldo secondo me è il giocatore più forte in questo gioco 85 partite 68 gol 19 assist Ahimè non sta tenendo la media reale Perché tipo adesso ha fatto 250 gol in 240 partite Ora non ricordo bene Comunque Viva Cristiano Ronaldo Passiamo invece al reparto No Prima c'è ovviamente l'esterno destro Come esterno destro ve l'ho già anticipato Infatti utilizzo un ala destra anche qua Utilizzo Samir Nasdri Man of the Match Che avevo venduto e poi ho ricomprato Perché Ragazzi vi ho detto che questo giocatore è veramente forte Se gli devo trovare una pecca È quella della forza fisica Infatti non ha molto di forza fisica Se hai aspettato un secondo Ve lo posso anche dire Ma per il resto è veramente completo Ha molta finalizzazione Ha un dribbling perfetto Un controllo palla Magicissimo Infatti comunque vi stavo dicendo Della forza fisica Presenta solamente 67 di forza fisica Che è un po' poco Infatti Lo preferisco utilizzare come un esterno Che come ala Perché Nel caso in cui Voi lo metteste ala Lui dovrebbe avere a che fare Con difensori Con difensori Qua magari si tratta di terzini Come anche centrocampisti Che Solitamente Sono quei giocatori Un po' più forti Un po' più larghi di spalle E quindi rischiano di farvelo Cadere spesso E quindi è una cosa un po' poco tattica Quindi se avete Se ce l'avete Io vi consiglio di utilizzarlo Come esterno destro Passiamo invece al reparto Offensivo Allora come COC Potete utilizzare O No Potete utilizzare De Bruyne Oppure potete utilizzare anche Oscar O meglio Un giocatore che dia Doppia intesa O a uno dei due attaccanti O a entrambi O anche al CDC Comunque io utilizzo sempre lui Perché come sapete È uno dei miei centrocampisti Offensivi preferiti 71 partite 21 gol 17 assist Vabbè Ormai è in ogni mio squad builder Quindi non devo neanche fargli Questa mini recensione Ma passiamo all'attacco Perché da una parte Utilizzo Robin Van Persie Pagato la bellezza Di un milione 149 mila crediti Due partite Due gol E un assist E ragazzi Mi è piaciuto un sacco Ma sapete cosa mi è piaciuto Soprattutto La sua capacità Di smistare il gioco Prima l'avevo provato Come AT Però Aveva una pecca Cioè o meglio A me non piace Un giocatore Utilizzato come AT Nel 4-3 falso 9 E quindi ho detto Bisogna cambiare il ruolo Lo mettiamo punta In un 3-5-2 Affiancato da un giocatore veloce Perché infatti Qual è l'unica pecca Di questo giocatore Secondo me È la velocità Infatti presenta solamente 78 di velocità Ma se poi lo affancate Al magico Eto Diventa tutto più semplice Perché Eto ha sia velocità Che fisico Non ha un buon passaggio Cosa che ce l'ha invece Robin Van Persie Quindi all'incirca Sono complementari E potrete fare ovviamente Una strage di gol Con questi due player Eto 61 partite 47 gol 38 assist E invece Robin Van Persie Due gol Due gol e un assist In due partite Quindi non mi sembra affatto male Ragazzi Detto questo Spero che la squadra vi sia piaciuta Mi dispiace se vi ho tenuto Per 7 minuti E non meno Fatemi sapere quanto Sarebbe la vostra Durata ideale Di uno squad builder E poi ragazzi Vi volevo ricordare Di passare dalla pagina Facebook Perché sto per fare Il giveaway Di Napoli Porto Secondo voi quanto finisce Per me Non voglio gufare Il Napoli Fa un bel 1-0 E poi Ci si godrà i rigori Però è tutto da vedere E quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi esorto A lasciare un bel mi piace A commentare A iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Ma cosa più importante Scrivermi Se preferite avere Il pink pile Di Robin Van Persie Arancio Quindi Man of the Match Oppure di Figo Leggenda Fatemelo Fatelo sapere Scrivendo un commento E Death West Io vi saluto E vi dico potente A palazzi Sento al prossimo video Bolla Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti